il nuovo stadio friuli sta crescendo e si sta colorando anche grazie all'applicazione dei nuovi seggiolini come abbiamo anticipato eccoli qui sono i colori di quella che è la curva nord dove ci troviamo in questo momento alcuni dei seggiolini sono già stati posizionati ne vediamo uno per esempio questo grigio eccolo qui questo è solo l'anticipazione di quello che sarà che saranno i colori del nuovo stadio friuli arancione grigio giallo verde poi manca anche il blu il nero e il marrone sono uno stadio multicolor molto probabilmente uno stadio che si è ispirato a quello dello sporting lisbona quando l'udinese vinse il preliminare di champions e entrò per la prima volta in champions league questa è la curva nord come potete vedere seggiolini che vediamo qui ma che saranno posizionati anche nei distinti e poi nella curva sud l'ultimo step del nuovo stadio friuli ricordiamo inoltre che tra brevissimo comincerà la campagna abbonamenti per assicurarsi un posto in questo nuovo meraviglioso stadio multicolor e vediamo così un'anticipazione di quella che è la visuale che si può ottenere da qui dalla curva nord eccola qui vediamo come la curva nord si sia avvicinata notevolmente al campo insomma per uno spettacolo in primo piano sempre in esclusiva sarà davvero come essere in campo grazie a tutti Grazie per la visione